ciao a tutti martello rotto mena mena allora vediamo cosa fare allora viene tutto dobbiamo tagliare la parte spaccata per l'occasione inauguriamo la nuova sega giapponese della parkside beh rimettiamo questo e la mettiamo via poi togliamo la parte con un altro martello magari vediamo un po ci serve qualcosa che faccia da spina ecco proviamo con questo non da questa parte andremo a picchiare da quest'altra all'interno qui c'è un cuneo questo bisogna recuperarlo come lo recuperiamo crepando questo lo crepiamo ecco qua recuperata questa che qua andrà rimessa poi ora dobbiamo lavorare il manico lavorare questo manico in maniera tale che mi ritorni qui dentro questa è la parte anteriore dove c'è scritto il peso forse più così e già che ci siamo visto che la mattina si vede poco proviamo con niente perché i pennarelli sono troppo grandi beh vabbè si vede bene adesso vedete tanto consente dovremmo rimolarla tutta e via adesso di rasma ciao 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 inserisco la spina facciamo un po facciamo un po ciao 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 e grazie come al solito iscrizione al canale se vi piace ciao 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 ciao